Il loro sentimento è molto bene. Ho visitato tutti gli studenti cinesi che studiano qui. Tutti dicono bene, bene. L'Università è una università molto famosa in Italia, ed è una università più famosa in Italia. E hanno grande influenza fra tutto il paese. Quindi, noi abbiamo anche scegliato questo progetto per la nostra università. Perciò noi scegliamo questo progetto qui per prendere gli più studenti dalla nostra università a quella qui per fare lo studio. Perciò noi scegliamo questo progetto.